Niente raga, lo sapevamo, era troppo difficile. Era troppo difficile, purtroppo l'abbiamo persa l'andata, ce l'hanno decisa andando a vincere Young, tanto c'è poco da fa', questi sono i fatti. L'andata non era oggi magari la partita che dovevi vincere, quella che dovevi vincere era l'andata, nel tuo stadio. E poi magari oggi potevi venire a difenderti, perché vincere qui ci abbiamo vinto una volta, una volta e basta, con stramaccioni. Prima e ultima, fine, l'abbiamo più vinto in questo stadio. Quindi si sa che andare a vincere qui era quasi impossibile. Bisognava fare punti, no fare punti, bisognava fare i gol e vincere a San Siro. Purtroppo andando a vincere Young hanno deciso di buttarci fuori dalla Coppa Italia e questo è stato. Se intanto mi vedete così raga in cannottiera, perché io questa partita la sento tantissimo, ogni volta sudo tanto, quindi mi levo la febbra, mi levo tutto, non serve a niente, non ha servito a niente il mio sudore, la mia ansia, perché purtroppo siamo usciti. Per un altro anno ancora, gioisco, un'altra volta ai gobbi. È vero che noi ogni anno diciamo sempre ma quest'anno abbiamo giocato meglio, quest'anno li abbiamo un po' dominati, quest'anno siamo usciti per colpa di quello, quest'anno di qua, quest'anno di là, ogni anno diciamo sempre la stessa storia, ma ogni anno gioiscono sempre loro. Quindi ok, fare sempre questi discorsi, bla 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 bla, ma ogni anno chi è che gioisce? Loro, sempre, sempre. Per carità, hanno un progetto che viene la prima del nostro, il nostro sta veramente in declino, questo purtroppo i cinesi non si sa che si sono voluti in mente di fa. Avevo detto che ci facevo un video sul discorso società, ma vabbè, raga, non voglio stare nemmeno tanto a parlare, se voi mi immaginate, se a gennaio non abbiamo avuto due o tre milioni da spendere per GECO, ma non vi sto neanche a commentare, l'Inter, l'Inter, non sto parlando del Chio Verona, l'Inter non ha avuto tre milioni da spendere per GECO, questa risposta vi deve dare il momento in cui stiamo vendendo dalla società, non abbiamo avuto tre milioni da prendere GECO, basta, non vi devo dire niente di come stiamo in società, niente, non vi devo dire altro, punto, speriamo solo che vendano il prima possibile, per il nostro bene, mi dispiace, Verzang, tutto quanto, ma per il nostro bene devono vendere il prima possibile. Comunque parliamo della partita, la società è una cosa a parte, mi ho racchiuso in questo breve esempio, il momento societario. Per quanto riguarda la partita di oggi, l'ho già detto, cioè, se tu ti mangi quei gol, se poi Lukaku oggi zero, purtroppo non me la sento neanche tanto di prendermela, né con Lukaku, né con Lautaro, perché non abbiamo nessuno, chi fai entrare? Sanchez non c'era, chi fai entrare? Pinamonti? Pinamonti ti risolve la partita allo Juventus Stadium? Benissimo, ok, si fa male Lukaku, deve giocare Pinamonti, Sanchez non c'è, chi gioca? C'è chi entra? non c'è nessuno, capite perché io sto incazzato nero, capite perché sto incazzato con la società e con tutti, perché non hanno avuto l'idea, anzi, non l'idea, non abbiamo avuto i soldi, mi vergogna dirlo, non abbiamo avuto i soldi di prendere un rincalzo di qualcuno? Niente, giocano sempre gli stessi, e queste le paghi, esci dalla Coppa Italia, non me la sento di prendermela con nessuno, raga, con nessuno, perché giocano sempre gli stessi, dopo per carità, Lautaro con i gol li deve fare, Sensi è entrato nel secondo tempo, questa cosa ci tengo a dire, Sensi è entrato al 65esimo, al 70esimo non mi ricordo, ma Trottorelli, ma se non hai voglia di giocare, stai in panchina, stai in panchina, che già, no, non hai mai giocato in vita tua, se poi hai quelle poche possibilità, e mi corri così, stai seduto, non serve a niente, a niente, anche oggi Eriksen, tutto da rivedere, non abbiamo visto quell'Eriksen che abbiamo visto contro il Benevente, contro il Milan, purtroppo, vabbè, oggi avevi una buona possibilità, non l'ha dimostrato, sì, qualche buon tocco, ma niente di che, cioè oggi, insufficiente, ma non solo lui, tante oggi, tante insufficienze, come Brozovic, come anche poi il suo amico che è entrato, Perisic, un disastro, io oggi l'unico che mi sento di salvare è Andanovic, che ha fatto due ottime parate su Ronaldo, quindi bravo Anda, e Hakimi, fine, il resto, e Barella forse, dai, un 6 proprio risicato, ma perché Barella ci mette sempre l'impegno, Barella number one, Barella, il nostro futuro non va azzardata dallo via, per rifare i vostri debiti in società, perché mi incazzo come una bestia, questo deve essere chiaro, è chiaro, perché tutte le società stanno vivendo un momento duro, ma la nostra particolare, molto particolare, perché si sa le regole cinesi in Cina, non voglio stare nemmeno a dirlo, perché magari vi direi anche delle cavolate, perché nessuno sa quello che sta succedendo in Cina, benissimo, ma non giocate sulla pelle degli interisti, perché poi ci incazziamo, questo è chiaro, punto, l'Inter è l'Inter, voi ritornate e non siete venuti, non me ne frega niente, datela a chi sapete che può darci un futuro, sbrigate a venderla, perché a vedere che nel mercato di gennaio, non riusciamo ad acquistare un giocatore per 3 milioni, è veramente una cosa vergognosa, vergognosa, vabbè, io penso che non ce la dire altro, io ho sintetizzato la partita, purtroppo, io ve lo ripeto, io ho tanta, tanta paura, anche per il campionato, perché siamo sempre gli stessi, ma voi immaginate, siamo a febbraio, marzo, aprile, maggio, tre mesi, è vero giocheremo una volta a settimana, ma bisogna sperare che in questi tre mesi, né Lautaro, né Lukaku si fanno male, che poi anche loro, come vedete, non possono giocare sempre bene, Lautaro si mangia 10 con la partita, Lukaku, quando è in giornata, è un giocatore orribile, ma ci sta, giocano sempre gli stessi, sempre gli stessi, speriamo bene, speriamo bene, solamente la buona sorte ci può aiutare, perché di questo passo, con sempre gli stessi giocatori, è quasi impossibile, solamente un miracolo ti fa arrivare a maggio, nel pieno delle forze, e i giocatori sempre in forma, meno male abbiamo solo il campionato, meno male, perché se no era già impossibile, comunque vi saluto, vi ringrazio sempre Forza Inter, lasciate un mi piace un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e niente raga, la vedo, non voglio fare il pessimista, però, le acque non sono calme, e il futuro diciamo che non è brillante, abbiamo un ottimo 11 in campo, però poi, soprattutto in attacco, se non ci sono i ricambi, con un Sanchez che gioca una sì, una no, purtroppo fragile muscolarmente, non puoi andare lontano, io lo spero tanto, ma difficilmente andrai fino a maggio, difficilmente, speriamo bene, amala, lasciate un mi piace nel video, e iscrivetevi al canale, amore. amore.